appunto la memoria storica e di far sapere alla gente sia locale, alla popolazione locale che a livello diciamo generale, le informazioni sul territorio che sono veramente peculiari. Allora, questo paese dove abito io si chiama Formello. La toponomastica, come tutti sanno, non è che è casuale, avviene, diciamo, viene dato il nome più o meno antico a una località, appunto a un toponomo, un toponomo viene dato a questa località che è relativo a, diciamo, un fatto, una caratteristica, eccetera, di questo territorio. Allora Formello si chiama Formello da derivazione appunto di latina che deriva appunto da forma-forme che in latino significa acquedotto cunicolo. Perché? Perché noi siamo l'antico territorio di Veglio, che era l'antica rivale di Roma con cui è fatto 200 anni di guerra e dopo 200 anni, 14 guerre contro Roma è stata espugnata grazie al tradimento di qualcuno che ha fatto entrare dai cunicoli, dagli acquedotti appunto presenti sul territorio, i militari, diciamo, i soldati di Roma e diciamo un po' come il cavallo di Troia. Insomma, si sono introdotti all'interno, hanno aperto poi le porte e quant'altro. Storia, diciamo, ripetuta n volte nel corso appunto della storia ufficiale e non ufficiale e finalmente oggi abbiamo l'Italia, no? Partendo da allora. Allora, diciamo, la conquista di Veglio è stata la prima conquista di Roma a nord di Roma. E da lì poi l'ingrandimento, perché era, diciamo, l'alter ego di Roma, era, diciamo, quello che oscurava la possibile espansione di Roma. Fatta la conquista è partita l'espansione di Roma. Quindi questo territorio ha un'importanza storica importantissima, ma soprattutto ha un'importanza archeologica importantissima e anche morfologica, perché è un territorio molto particolare, è un unicum nel suo genere mondiale, c'è qualcosa in Algeria di simile. E che cosa è successo? Successo, praticamente, questo territorio, per una serie di motivi che non sto a dire che sarebbe troppo lungo, ma se vi andate su albamiderranea.org o albamiderranea1, trovate il libro che è gratuitamente scaricabile e vi andate a documentare su quello che sto dicendo. Insomma, praticamente, che cosa è successo? Che Formello è una groviera, cioè è un territorio di circa 40 km quadrati, diciamo, il comprensorio anche all'esterno del comune, che comunque è, diciamo, fa parte di questa, diciamo, tipologia di morfologica. E praticamente che cosa è? è un territorio traforato da cunicoli di varia dimensione, diciamo, di sezione, anche di forma leggermente diversa, che serviva, appunto, questo reticolo di cunicoli a drenare l'acqua piovana per un certo periodo storico o addirittura poi successivamente per portare l'acqua nelle campagne. Una cosa eccezionale. È un'impresa epica, tipo le piramidi, insomma, una cosa del genere. Io, appunto, ho sondato personalmente, ispezionato personalmente circa 40 km di acquedotti etruschi sotterranei tuttora più o meno, diciamo, parzialmente visitabili e parzialmente agibili. Perché poi nel corso dei secoli, sia per la, diciamo, manomissione umana e sia per, diciamo, il tracollo normale dei manufatti, sono crollati o, diciamo, sono stati in qualche modo resi, diciamo, inoperativi. Però buona parte di questi cunicoli tuttora funge da canali di scolo per molte zone del territorio. E allora che cosa è? Arriviamo al motivo di questa lunga, lungo escursus. Allora, a Formello, dunque Formello, nel corso degli anni, degli ultimi 30 anni, come io anche, molti cittadini di Roma, a stufi del traffico, del caos, della confusione di Roma, stanno piano piano facendo il reflusso contrario a quello degli anni 50, dell'inurbamento e, diciamo, addensamento demografico nelle città. Piano piano tanti quelli che possono, ovviamente, stanno riandando nelle campagne. E cosa, diciamo, più facile è nel territorio dei comuni, diciamo, limitrofi a Roma. E Formello è uno dei comuni, è proprio confinanti col Comune di Roma. E quindi è stato per tanti anni una sorta di dormitorio di Roma, dove la gente veniva, ha finito il lavoro, perché ovviamente qui non ce n'era, lavorava a Roma e tornava qua. E questo è successo fino a qualche anno fa. Poi, fortunatamente, con una buona iniziativa, diciamo, come principio basilare, è stato, diciamo, adottato un piano regolatore e anche prima un piano di espansione dell'utilizzazione della zona industriale, che praticamente ha permesso la realizzazione di una bella zona industriale, dove hanno trovato, diciamo, sistemazione, varie attività e anche, quindi, ha portato, diciamo, posti di lavoro e quindi possibilità economica, miglioramento delle possibilità economiche del paese. E questo, quindi, è assolutamente plausibile. Il problema nasce da un mio, allora, io nel corso degli anni ho fondato varie associazioni, fra cui anche l'associazione dei democratici diretti, insieme a Pino Strano e ad altri. uno degli altri era il signor Rufo Guareschi. Questo signor Rufo Guareschi aveva un'idea, diciamo, fissa, una specie di ossessione, no? Voleva realizzare, e poi mi raccontò, perché quando ci siamo poi conosciuti meglio frequentandoci, mi domandò dove io abitavo, gli disse che abitavo a Formello, e lui disse che a Formello era proprietario di un terreno, di un lotto di terreno di circa 9 ettari, se mi ricordo bene. E mi spiegò dove era. Questo era nel 2006, più o meno, 2007. E io, lì per lì, non seppi da, diciamo, identificare bene la cosa, poi successivamente, in una seconda occasione, così per curiosità, andai a vedere dove era questo terreno, e mi resi conto della cosa, diciamo, che la sua ossessione di Rufo Guareschi era veramente poco fungibile. E quindi glielo dissi, abbiamo parlato varie volte, dice guarda, quel progetto che c'hai in mente non si può fare, perché lì tu dove c'hai il terreno, sotto il tuo terreno, cosa che lui non sapeva, gli disse appunto, tu c'hai ben tre cunicole etruschi, varianti fra i 2500 e i 2700 anni di antichità. E lì, onestamente, fra l'altro, visto che nel 1997 è stato costituito il nucleo centrale della zona A del parco di Veio, dove esistono ben sette vincoli di ogni genere da, diciamo, tutelare, gli dissi, ho l'impressione che tu lì non ci potrai fare niente. E lui disse no, perché io ho già parlato con i responsabili del Comune di Formello e sono tutti abbastanza propensi, si tratta solo di risolvere alcuni problemi, eccetera, eccetera, per cui, diciamo, la cosa può magari richiedere un po' di tempo, ma si farà. E io gli ho confermato i miei dubbi, perché appunto sapevo quello che erano i limiti posti su quel territorio. Allora, torniamo ai giorni nostri. Vado quindi a contattare questi miei compagni della lista civica che si presenta alle elezioni del sindaco attuali e questi signori mi dicono alcune cose. E mi dicono, fra l'altro, che il 14 febbraio, giorno di San Valentino di quest'anno, si era svolta un'assemblea del Consiglio Comunale in cui era stato approvato un piano di lottizzazione e di ampliamento della zona industriale e l'approvazione di un contratto di convenzione con una società che si chiama, diciamo definita così in estrema sintesi, polo dell'eurovisivo europeo. Anche lì per lì non ho collegato le cose, perché erano passati 4 o 5 anni, ma poi per una serie di indizi percepiti qua e là, nel giro di qualche giorno, mi è, diciamo così, all'improvviso parso chiaro quello che adesso vi racconto. Cioè, praticamente il signor, il mio amico, che mi aveva detto che stava, diciamo, progettando quella sua idea di polo telematico audiovisivo sul suo terreno, posto al centro della zona A del Parco di Reio, sopra i cunicoli, i tre cunicoli etruschi, praticamente era stato approvato, cioè, praticamente era successo che il 14 febbraio di quest'anno il Comune di Formello ha approvato il contratto di convenzione. E anche io ho detto, vabbè, andiamo a vedere che cosa è successo, per come sono riusciti a modificare e a, diciamo, stiracchiare in qualche modo la possibilità, diciamo, legale di poter fare una cosa del genere. E quindi sono andato a prendermi i documenti, che adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Grazie.